Ragazzi, purtroppo lo scorso video l'ho dovuto cancellare Voi chiedete perché? Perché siamo calati, i recenti iscritti ci sono andati in due Perché quelli erano iscritti Ricambio Possiamo continuare a costruire la casa Soltanto che dobbiamo andare a prendere altro legno Perché non basta per nulla La fortuna è che mi sono riuscita a creare un letto Che il letto è la cosa che serve di più per sopravvivere in Minecraft Cioè tu ti apposti su un albero Metti il letto e dormi Cioè non ti costa proprio niente Ciao porco ma ti devo uccidere perché sei molto succulento Ieri qua succulento porco Il 2 febbraio dell'anno prossimo sarà l'anniversario del mio canale YouTube Che bellezza Il fatto è che il 2 febbraio 2021 sarà la data che nessuno si dovrà mai dimenticare Nessuno di me iscritti si dovrà mai dimenticare Quelli che sono nella mia zona vengono mangiati Quindi tu sei nella mia zona quindi verrai mangiato Ora metto a cuocere questa bella carne di porcello Che diventerà buona pancetta Possiamo prendere altro legno perché ragazzi in questa puntata voglio finire la casa Cioè dobbiamo dedicarci a finire la casa Ma io vi consiglio di guardarlo questo video Sapete perché? Perché potrebbe pure darvi un aiuto per vedere che tipo di casa fare Finire di fare il contorno qua Oh è davvero minuscola Cioè non proprio minuscolissima Come poi che dobbiamo continuare a sparare un po' qua Già perché se no fa schifo Se devo mettere la finestra qua Ma porchetta rimani qui che bello grande porchetta Ma io non lo sappia Vabbè Quindi ho un po' troppo a livello Borgacca Fare un sondaggio Anche se YouTube non li fa più mettere Voi mi scrivete nei commenti Voi preferite il legno di birch ovvero quello lì Oppure il legno di quercia che è quello lì Voi scrivetemi nei commenti Leggerli leggerò tutti quanti No porchetta mi hanno abbandonato Porchetta Muoviti a tornare sempre in casa Sì non ti preoccupare Torno sempre a casa In realtà corro Scappo E torno alla mia famiglia di porci Porchetta è tornato Non è vero Entra porchetta Entra porchetta Blocco 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 Fermo porchetta Forse perché l'ho inchiuso Porchetta non mi tradire Ah questi qua non vanno piattati qui Se stai andando Ecco vabbè Porchetta mi odia Brutto prosciutto Maledetto prosciutto Porchettoso Possiamo Scusami Ma io quanta terra c'ho Quanta ne ho presa Proprio ho preso una palafitta di terra La posso costruire la palafitta di terra Sicuramente Porchetta mi ha abbandonato Cosa che ho detto 40 volte E quindi io odierò porchetta Per il resto della mia vita Vabbè Fa niente Comunque io vi lancio una sfida Da una sfida Se in questa estate Arriviamo A Non lo so Più di 100 iscritti Farò qualcosa Ok Non lo so